Per cacciare il nemico, proprio sono per cacciare il nemico, proprio era questo, almeno si pensa questo, perché poi hanno fatto degli studi Possiamo Alberto, Angela, Mario Torrento, Mario Torrento Amici buonasera Tutti i contempli, i medici, è un punto di meditazione Allora, la via Crucis, se vedete anche la pendenza, è una via Crucis, è proprio via Crucis Anche perché portare queste vale a spalla, a salire e a scegliere Tre anni fa hanno tentato di farlo Non ho messo la quadrilla mai, ed escono dalla chiesa di Santigliano, la chiesa che c'è in paese prima del Baglio Che è anche la chiesa conosciuta, senza diventi di leggende, come la storia Secondo me si, se a te quattro Ok Tu quanto prendi di piede? 37 Metti il piede 24 Vedi che ci raso buono Allora, una cosa strana, dopo quello io c'entra, perché io... Ma perché te con le mani in mano ti come ti appogli? Gli occhiali ti consiglio di toglierli, perché con il naso non ci sono riusciti a tenerli Cascano, cascano Cascano, cascano Alcuno mi cambia il coso, io spesso Allora, non lo so E' bella, sto freddo 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 Vediamo questa cosa difficilissima che abbiamo fatto No, evitato E' bella, sto freddo E' bella, sto freddo E' bella, sto freddo E' bella, sto freddo Ora ce le mangiamo Ecco, questa è caratteristica Questa è la foto proprio della carta di identità Cambiamo foto... Grazie a tutti.